Era il luglio 2019 quando una bomba d'acqua senza precedenti si abbatte su Arezzo, strade legate, abitazioni sott'acqua e tanti danni e disagi. Un nubifragio violentissimo costato la vita anche a un uomo di 72 anni. Adesso per i cittadini e le attività economiche che avevano presentato in passato la richiesta di contributi a sollievo dei danni subiti a causa degli eventi meteorologici del 27 e 28 luglio, ma anche del 3 novembre 2019 c'è la possibilità di accedere ai contributi stessi. Sono state infatti approvate le modalità attuative per il riconoscimento e l'erogazione dei ristori. Le informazioni e la nuova modulistica sono sul sito della Regione Toscana. Per quanto riguarda i privati cittadini, la documentazione dovrà essere presentata a mano presso lo sportello unico di piazza Mintore Fanfani, per posta certificata oppure tramite raccomandata indirizzata al servizio ambiente. Farà fede la data del timbro dell'ufficio postale e dell'invio della posta certificata. Il termine per la presentazione della documentazione sono le 23.59 del 1 dicembre 2022. Per quanto riguarda infine le attività economiche produttive, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni a seguito della pubblicazione dei relativi decreti regionali.